Io sono felice di essere qui, devo ringraziare il mezzo Preterossi di averlo invitato e voi di essere qui presenti ad ascoltare. Sono in mezzo a colleghi e amici che stimo, provo a dire qualche cosa a partire, visto che è stata citata la tragedia antica, a partire da Antigone, c'entra. Abbiamo una complessità spaziale del diritto presente in Antigone in modo chiarissimo. Se avvengiamo, vediamo che al verso 449 Creonte le chiede come ha osato calpestare le leggi. E Antigone risponde, non era stato Zeus a proclamarle, o Kerosas, colui che ha ordinato queste leggi, non è Zeus, sei tu. E non è a proclamare quella legge che vietava la sepoltura di colui che aveva combattuto contro la città. E questa legge non era stata proclamata a Zeus e nemmeno da di che, che abita con gli dei sottoterra. Questi dei, poi, sono dei dei, sono dei rindi. Ecco, ci sono tre livelli. C'è il cielo, la terra e il sottoterra. Ciascuno con i suoi diritti e con le sue leggi. La politica è uno spazio intermedio. È una superficie che ha un sopra e un sotto. Ha a che fare col sopra. E infatti Creonte, verso 438, parla di Zeus, protettore della mia casa. Cioè, cerca di catturare lui, Creonte, signore del mondo di mezzo, cerca di catturare dalla propria parte il signore del mondo di sopra. E' una cosa facile, perché Zeus è anche il protettore della casa. E questo è vero. Ma, al tempo stesso, cerca di non avere niente a che fare col mondo di sopra. E lo dice, dice Creonte, che in terra, sulla terra, il Christos non può essere paragonato al Carmos, verso 520. Cioè, l'ottimo non può essere, non può essere messo sullo stesso piano che un pessimo. Il difensore della città non può essere sullo stesso piano come l'aggressore della città. E Antigone risponde che la distinzione fra amico e nemico, che Creonte, che Creonte, che avanza, quella distinzione che è centrale per la politica e che non può essere cancellata, invece, quella distinzione laggiù, è cancellata. Sottoterra non c'è una distinzione fra amico e nemico. E poi, dice Antigone, proprio per sottolineare questa fine, questo collasso della distinzione, io sono venuto per portare le ragioni dell'unione nell'amore e non le ragioni della disunione nell'odio. Basta. Ecco. Qui c'è molto. Molto di questo si è perso perché il mondo moderno conserva il rapporto fra cielo e terra, ma dismette completamente il rapporto fra sottoterra. semmai sostituisce, certamente il rapporto cielo-terra nel modo moderno è strutturale con una modificazione che solo in questo senso potrebbe introdurre, e dunque il cielo in realtà diventa la cornice trascendentare di ciò che capita in questa terra, insomma il concetto di teologia politica. E questo è il mio discorso. Il sottoterra, sottoparano, non c'è la necronanzia del pensiero politico moderno. C'è qualche cosa che potrebbe assomigliarne, cioè la storia. La storia è una potenza tonica che arriva dal di sotto e determina ciò che sta di sotto. Però questo sta nelle linee di pensiero critiche di ciò che invece nella modalità è mainstream. Ciò che nella modalità è mainstream è che il cielo non c'entra, o quantomeno le ragioni fondative, strutturali del cielo, devono venire individualizzate e interiorizzate. Se il cielo entra in gioco con la politica, gli entra soltanto attraverso un'operazione di smuotamento, diciamo di preparazione. E a ciò il pensiero dialettico, che non è mainstream, che è il pensiero critico, oppone, guarda che il tuo rapporto cielo-terra è debole, perché in realtà vi è una spinta fortissima che viene dal passato. Ciò che era sottoterra diventa il passato, che determina il presente. Il presente non è tra la tavola rasa che non credete. Beh, per me diverso l'articolo è assolutamente diverso. La differenza fra l'amico e il nemico non viene cancellata nel pensiero politico moderno. Anche nelle forme più soft e mainstream del pensiero politico moderno. Quella differenza, beh, se non altro come differenza fra il termine esterno, che non è, che nessuno, nessuno può mettere in discussione. La, la semplificazione moderna, perché di questo si tratta, non arriva a fare l'operazione di Antigone, cioè di cancellare la differenza. Diciamo, la rende meno drammatica, le toglie quell'elemento di tragedia che è presente, ma non la può cancellare. Certo, la differenza fra l'amico e l'amico, come differenza strutturante, l'ordine politico e l'ordine giuridico è una differenza semplice, cioè è una differenza di spazio. Si parla sempre e solo nella versione mainstream del pensiero politico moderno di una dimensione, appunto, intermedia spaziale. Questa dimensione intermedia spaziale svincolata sostanzialmente dal cielo, svincolata dal sottoterra, conosce delle differenze, delle linee che l'attraversano. Questo è il pensiero politico moderno, da questo punto di vista. Spazi qualitativamente non premiati. Spazi la cui unica qualità deve essere stati delimitati. nemmeno sulla base di un principio di nazionalità. Non ce ne è bisogno. Poi il progresso storico a un certo punto porta sulla scena il principio di nazionalità e lo collega a un principio di legittimità. Mi si dice sostanzialmente che tagliare linee sulla terra non basta. Questo è il mero artificio del tagliare linee non basta. Questo artificio deve dare una forma a qualche cosa che proviene dal passato e che deve trovare espressione esplicita. Questo qualche cosa è natura nazione. Cioè qualche cosa che trascende il gesto formale. in linea teorica non c'è bisogno di questo. In linea teorica è sufficiente per tracciare linee e distinguere l'interno dall'esterno e distinguere così l'amico dal meglio. Senza pathos senza tragedie però è una distinzione forte. E così voi vedete che abbiamo una geometria politica giuridica cioè la politica consiste nel tracciare delle linee dentro le quali può e deve essere fatto valere un ordinamento giuridico che abbia un'unica foto tendenzialmente un'unica foto quando si saranno aggiustati alcuni conti in famiglia fra il diritto posto e il diritto consuetudinario alla fine l'obiettivo è un ordinamento uno spazio è un gesto politico che pone il tutto avviene sulla superficie terrestre né sopra né sul tutto e così voi vedete che l'età moderna descrive se stessa attraverso differenze speciali la differenza decisiva tra il mondo e il resto del mondo la differenza decisiva tra la madre patria e le colonie tra gli spazi civilizzati e gli spazi che sono resti in virus e possono essere presi e così voi vedete che da vittoria a suare la guerra tanto per prendere l'emblema del processo moderno di secolarizzazione la guerra si separa da una valutazione universale delle sue ragioni e diventa qualche cosa che ha a che vedere con la ragione dello Stato e vedete che da Grozio a Opsio ancora più chiaramente la guerra si separa dalla giustizia vedete come nella giustizia se in Opsio questo è evidente in Grozio non è per niente evidente di Grozio scrive degli uri e degli uri per niente sì però se andiamo a vedere e Grozio continua ragionando nel quello giusto sì però se andiamo a vedere il secondo libro di Grozio è nemmeno impressionante delle ragioni di guerra giusta e sono tutte ragioni in mano non è altro che l'ultimo affannoso tentativo della considerazione giuridica della politica perché Grozio è questo l'ultimo affannoso tentativo di dire non posso lasciare cadere la legittimazione della guerra secondo giustizia ma questo vuol dire io interpreto questo mio davvero elencando un numero infinito di cause possibili e questo è giusto praticamente infinito è chiaro che dopo arrivo e dice sai cosa c'è di nuovo facciamo però togliamo proprio la giustizia e diciamo che la guerra è un atto sovrano dello Stato e se la vede è assoluta solo contro un altro Stato è un gesto di semplificazione di un processo che era già in alto e voi vedete l'insistere ossessivo del pensiero giuridico politico moderno sulla necessità dell'obbedienza il sacrificio dell'attività espansiva del soggetto a favore dell'obbedienza al potere politico lo vedete in un pensatore come Alberico Gentile che comincia la sua carriera in chiave umanistica e dunque il soggetto capace di dare proprio impronta al mondo e la finisce in chiave di ragione di Stato una cosa che conta è obbedire perché? ma perché le ragioni della disunione sono venute così forti che la maggior ragione della ragione dell'unione delle altre varie su di essi l'obbedienza sempre più necessaria e la sostanza universale si interviglieza non l'elemento formale che resta ma l'elemento sostanziale dell'universale della tradizione diventa la fede interna non deve disturbare e vedete che il diritto il diritto si fa territoriale positivo sempre più chiaramente dominato dall'attività legislativa in capo a un soggetto riconoscibile che sia poi il monarca assoluto che sia poi un parlamento rappresentativo da questo punto di vista di portamento e insomma poi vedete che il risultato dell'elemento moderne che ciò che esiste sotto il profilo giuridico e politico è un'entità chiamata stato che è universale particolare fin qui è facile il punto è che questo universale particolare è abitato dal particolare universale cioè il singolo soggetto e che tutta la fatica che abbiamo fatto è quella di cercare un algoritmo che consenta la comunicazione reciproca fra l'universale particolare e il particolare universale questo algoritmo non c'è cioè lo stato moderno è essenzialmente instante per una lunga serie di motivi uno di cui qui non parliamo ma insomma che infatti è minato fin dall'origine dal potere costituente che è un generatore di ordine che è al tempo stesso generatore di potenziale disordine ma questo di cui oggi non ne parliamo parliamo di un altro tipo di potenziale disordine che è contenuto ovviamente lo stato moderno è fatto di uomini uguali perché il stato moderno prima o poi arriva alla distinzione dei centri e tenere insieme il concetto di libertà e uguaglianza da una parte e di sovranità dall'altra sovranità è il modo di esistere il fatto che uno stato esista esista nella sua capacità di volere esista nella sua capacità di organizzare uno spazio secondo ragione cioè far valere un ordinamento giuridico esista nella sua capacità di esprimere un corpo politico unitario ma non compatto ecco le ragioni della sovranità e quelle del individuo non sono fatte per andare d'accordo l'uno ha bisogno dell'altro senza l'uno l'altro non c'è senza l'altro l'uno non c'è sicuramente non esiste lo stato senza il individuo e non esiste il individuo senza stato sicuramente questo non vuol dire che vada la ricorda anzi non ci va niente possono trovare lunghi momenti di compromesso un matrimonio di interesse che può non sì ma da qualche parte scappa lo stato scappa perché a un certo punto l'avvolizione dello stato si afferma anche in forma autonoma non soltanto dietro trasmissione di input da parte degli individui detto in un'altra modo la posizione dello stato si afferma anche in derogare rispetto allo di un non succederà tutti i minuti ma può succedere e l'individuo adesso non diciamo che l'individuo disobbedisce le leggi che è una banalità è che l'individuo ha delle ragioni che non convergono con quello dello stato essenzialmente sono vettori universali che nascono dall'individuo particolare sì però è stato messo dentro lo stato perché esso il individuo possa perseguire il proprio utile questo è tutto decisivo dell'età moderna cioè la politica svuotata di ogni altra determinazione se non garantire ordinare assicurare vita libertà e libertà benissimo ma il perseguimento dell'ottile da parte del particolare è un vettore universale è un vettore universale che si manifesta lentamente per un bel po' di tempo questo perseguimento dell'utile si apportenta della dimensione statale anzi la richiede del concubio fra il capitalismo e lo stato lo stato ha bisogno della ricchezza del capitalismo il capitalismo è una forma economica che si fonda sopra il perseguimento dell'interesse privato lo stato ha bisogno di quella ricchezza e quegli individui privati hanno bisogno che lo stato gli aiuti a crescere gli faccia delle politiche protezionistiche gli faccia delle leggi che rendono prevedibile un agire politico e giustiziarine il dono interesse privato ne ha bisogno dopo che questo succede e ha bisogno l'individuo anche di essere supportato dallo stato quando travaglia i confini dello stato come privato e di larga nel mondo alla ricerca tenuto le compagnie che sono un fenomeno fondamentale delle camo verde le compagnie sono compagnie ibride sono private ma hanno funzioni parapubbliche spesso nel capitale di quella compagnia in forma mascherata c'è capitale del re come privato certo non come stato e tuttavia e tuttavia vi è un riconoscimento reciproco fra l'agire oltremane di una compagnia e la la forma sovraina in madre e padre intanto che uno dei due non prevale in una prima fase prevale lo Stato ma la compagnia delle Indie ad un certo punto viene sciolta e l'Inghilterra quella che noi chiamiamo l'Inghilterra diventa la diretta titolare del dominio sull'India non lo lascia più a quell'ibrido che era la compagnia delle Indie ma in realtà al tempo stesso la potenza dell'interesse privato copre con una regnatela tutto il mondo e diventa capace di sfida non solo ma al tempo stesso cambia la legittimità dell'agire in mente la legittimità dell'agire politica da un certo fase in poi la possiamo mettere con la prima guerra mondiale possiamo mettere col patto Brian Kellogg la possiamo mettere con la istituzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite la possiamo mettere con la trasformazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite in entità che non si accontenta più di garantire la sovranità il permanere integro della sovranità degli stati ma passa da se stesse il compito e la responsabilità di proteggere i singoli individui nei diversi stati di questo mondo anche contro il potere sovrano di quegli stati ma insomma possiamo mettere la possibilità che è un momento in cui la legittimità della politica cambia e esce dalla dimensione dello Stato e entra nella dimensione dell'universale del particolare massaggio dell'individuo e l'universo mondo non è altro che uno spazio dove i confini sono sempre meno legittimi e sempre più è legittimo il diritto di dare il singolo a vedere il rispetto anche o quello che volete voi dignità anche contro lo stesso e vedete al tempo stesso la morale non solo il diritto ma la morale marciare insieme e affermare la immoralità di tutto ciò che è limitazione e vedete il diritto tanto della forma privata quanto della forma del diritto civile quanto della forma del diritto penale diventare qualche cosa che cerca di non avere più come fondamento dello Stato ma pensa di proporsi come una sorta di antopugliesi e allora vedete da una parte e non sto parlando delle teorie dell'ordinamento delle istituzioni sto parlando dell'ex mercatoria nella della versione del diritto privato no cioè l'universo è una ragnatela di pattuzio fra privato e nella forma del diritto penale non il tribunale penale internazionale che di punti in bianco porta lo Stato in tribunale cioè cessa di considerare lo Stato come entità sovrane non giudicabile e lo considera come il prodotto di azioni di singoli che come tutti i singoli di questo mondo da qualche parte ha il tribunale che si può occupare di tutto prima che lo Stato veniva giudicato come il tribunale della storia oggi viene giudicato da un tribunale penale internazionale naturalmente 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 niente naturalmente niente perché tutto ciò è il trionfo dell'universale ma di un universale molto orientato di un universale che ha un punto di origine con una prospettiva assolutamente patente nel senso che noi vediamo portare per carità davanti al tribunale penale internazionale criminali di guerra di secondo rango come quelli del Poniano della Bosnia e non vediamo portati davanti a nessun tribunale pesce un po' più grosso anche perché il tribunale internazionale non ha una giurisdizione necessaria ma è come dite su base volontaria e i pesci prossimi non abbiamo aderito però è un bel lettore un salito il diritto nelle maglie forme e la morale messa insieme delegittima lo Stato lo Stato non è più l'ultima istanza che vuol dire che il diritto non ha più eccoci una dimensione spazzata o se ce l'ha ce l'ha un'via accidentale non sostanziale non è più una dimensione spazzata anche quell'ultima differenziazione banale fra interno ed esterno è caduta non ci sono più dimensi ci sono soltanto amici che sbaglano cioè criminali processano o naturalmente è una narrazione questo è tutto è una narrazione temo di dover avere una narrazione interessata una narrazione orientata temo di dover avere una narrazione in un processo marittima come volete che ha la propria ragione di essere in alcune come dire istanze geopolitiche che hanno molto che vedere con la libertà dei mari e la libertà del commercio e che hanno e che ha la propria ragione di essere oggi nel fatto che questo tipo di narrazione è questo punto questo tipo di narrazione è la musica d'accompagnamento poi vediamo il tema è se questa musica d'accompagnamento è necessaria ma insomma è al momento la musica d'accompagnamento di una marcia triunfare di una forma specifica di produzione che per convenzione chiamiamo neoliberalismo la cui la cui autoregittimazione non ve la sto io non voglio teviarvi con la spiegazione di qual è il pensiero economico del neoliberalismo con una battuta è il neoliberalismo della tale neomarginalismo ed è l'ultima e più potente risposta alla teoria marziale del valore alla quale si contrappone alla quale la teoria marziale del valore che vede il valore come prodotto di un'energia che della merce si ossifica questa energia si chiama lavoro libero a questa teoria ma fino negli ultimi anni dell'ottocento il pensiero economico ordese risponde con marzialismo teoria secondo la quale il valore non è determinato dal lavoro che in esso è rossificato ma dalla preferenza del consumatore margine e dunque in ultima istanza dalla concorrenza libera e dalla libera scelta dell'individuo nazionale che sceglie tra merci liberamente offerte da soggetti liberamente concorrenti all'innissima potenza mescolato con l'organicismo statalistico tedesco che da origine rondo-liberalismo e alembro tutto ciò ha a che vedere con la teoria dello Stato o come Stato che deve dissondersi perché è un comando ormai delegitivato e proprio rispetto alla libera energia e al circolare della libera energia individuale al circolare libero e universale dell'energia individua oppure a che fare è una teoria dello Stato molto più tradizionale che vede lo Stato come capace indispensabile come capace di porre un ordinamento fiero difensore di alcune regole fondamentali che sono la Costituzione in senso politico ma anche in posto la Costituzione in senso economico ma l'obiettivo ultimo di questa posizione di potere è quella di consentire la la libera concorrenza economica sulla base del principio che è l'origine di tutte le origini che l'economia può essere in equilibrio contro la teoria marxiana secondo la quale l'economia capitalistica non può mai essere in equilibrio perché contiene equilibri strutturali qui si dice può essere in equilibrio i neoliberisti può essere in equilibrio basta eliminare partiti di sinistra e sindacalisti e praticamente tutto lo Stato secondo gli neoliberisti no ci vuole una presenza pesante però con l'obiettivo di eliminare il non conforme eliminare il non conforme che è il non conforme di pensiero cioè il pensiero che vede in equilibrio laddove c'è il equilibrio e il non conforme come pratica cioè il pensiero che diventa pratica facendo sciopera negli tentativi di rivoluzione bene in questo secondo caso voi avete una forte sopravvivenza dell'idea di Stato e di sovranità e infatti andate a spiegare poi voi nei tedeschi a Karlsruhe che non esiste la sovranità dello Stato tedesco e che è ora di finirla con il sovranismo e che e che bisogna dissolversi del mare medio dell'universale fair care ecco vi ho andato a spiegare io non ci l'ho però questo Stato è sovrano ma non è sovrano perché è uno Stato al servizio è sovranamente al servizio della troppo economico che oltretutto viene interpretata per lunghe fasi come un'economia capitalistica concorrenziale a forte componente neorecantilistica cioè che si fonda come è normale che sia in questo contesto non sulla domanda interna ma sulla esportazione allora molto mi ha già detto con questo breve ragionamento abbiamo detto che esiste una relatività storica politica dello Stato come forma del suo porre l'ordinamento e che questa relatività storica è sotto il confido sociologico il fatto che il corpo sociale vede prevalere ora questa ora quella classe ora questo ora quelli interessi abbiamo visto che a un certo punto l'interesse che prevale è l'interesse particolare si fa un universale delegittimo un universale particolare come obsoleto o autoritario o coattivo e adesso opponiamo la libertà all'universale particolare opponiamo il vero universale e il vero universale non è un universale sostantivo è un universale fatto di esattamente 7 miliardi di individui quanti oggi hanno un'unità l'universale è questa cosa il formicare umano e dove ogni formica può se vuole muoversi indefinitamente per andare ovunque e ogni formica si deve muovere a forti ore si deve muovere i capitali e le merci questo immane movimento che sradica ogni stabilità e ogni radicamento questa è la forma della libertà e del progresso e tutti ci guadagnano e ciò è l'inevitabile esito di ciò che conta nell'età moderna cioè il capitalismo l'età moderna ha fatto tre cose il capitalismo lo stato e la scienza qui si dice la scienza è tutta catturata dentro il capitalismo e lo stato o fa il guardiano attorno o è una roba arcalca e il diritto il diritto certamente non lo fa lo stato il diritto lo facciamo noi tutti 7 miliardi negoziandolo fra di noi ed è il progresso perché questo è il passaggio dal comando al contratto dall'autorità alla libertà oltre che dalla povertà al benessere ecco perché buona parte del mondo oggi è sovranista perché il nulla di tutto ciò si è avverato di tutto ciò sono vere e solo le contraddizia se voi vedete sotto il profilo geopolitico la inesistenza della sovranità è una tesi assolutamente intenibile tutto quello che succede in questo mondo è descrivibile come azione deliberata di sovranità o di nemici di sovranità è la stessa cosa le leggi profonde della geopolitica continuano a essere indigenze l'America continua a essere l'isola al centro del mondo gli Stati Uniti continuano a essere interessati a controllare entrambe le spomme di attraverso gli oceani gli Stati Uniti continuano a circondare le masse continentali dell'antico continente di una catena di alleanze che bloccano le potenze continentali dell'interno e non le consentono di uscire tant'è vero che la Cina che queste cose le sa benissimo esce dal di dietro e non passerà mai un'arcinese meridionale da gli stretti di Nalacca perché di Minucci non ci riesce passa per la via dell'essere la Russia continuerà a cercare lo sbocco sul mare tanto e gli Stati Uniti continueranno a volere che dall'Islandia fino al Marocco l'uceano atlantico centenrionale sia in Manolo questo si chiama sovranità non si chiama fraterna convivenza del fornicare le linee qui sono tracciate dalla natura e la politica non puono tenerle conto quelle puoi interpretare in modo diverso le puoi interpretare in modo bellicoso o pacifico le puoi interpretare in modo ruggimirante o no ma insomma quello non è ma poi ma poi l'idea è va bene questo fa parte del retaggio di Adamo e il peccato originale però per quanto riguarda ciò che non è la natura ma ciò che è la cultura abbiamo realizzato l'unità del mondo perché il commercio ci ha unificato siamo tutti fratelli del dolce commercio l'idea è che non è vero il commercio non è dolce ed è fatto di squilibri non di economia e ci sono oltre alla geopolitica c'è la geoeconomia ci sono le assegnazioni autoritative di ruoli nel sistema produttivo internazionale e queste assegnazioni autoritative di ruoli hanno parecchio a che fare coincidono con la sovranità di alcuni paesi all'Italia è toccato sono toccati i cuochi e i salti non è poco ci poter andare peggio a una parte d'Italia si consente di produrre la mercantica di crescita purché rienti del mercato tedesco alla Germania è stato assegnato il ruolo di potenza economica centrale del continente sono la sua valentia sono bravi e attorno a questo ruota nel mestro dell'economia europea una cintura dei stati satelliti volete l'elenco tre paesi d'artici del Giolanda Lussemburgo Austria Nord Italia Polonia Dungria Cecchia Slovacchia aggiungo il Liechtenstein per compito questo che cos'è? è geo-economia cioè ci sono paesi che la pre-economia consiste nel produrre carburatore per l'automobile tedesca quando quando quelli smettano i dagli di odio del produrre carburatore quelli si trovano all'età della fettura buone cioè differenze sono differenze che si chiamano sovranità e siamo sicuri che non esiste che le multinazionali potenti e ricche come stati come super stati siano indipendenti dagli stati questa ultima provocazione siamo sicuri che l'economia via ordini al governo degli stati uniti siamo sicuri che l'economia non sia un pezzo dell'economia statunitense ecco perché accelta un pezzo che certamente pone qualche problema di governo e di controllo al governo degli stati uniti certo però tutti sanno e tutti ragionano che esiste il capitalismo francese che è quello che ogni tanto viene da noi ci porta dai pezzi più pregianti per me tutti sanno che esiste il capitalismo tedesco andatelo a chiedere ai cinesi o agli americani se esiste o non esiste il capitalismo tedesco e tutti sanno che esiste il capitalismo cineso quindi questa idea che l'economia galleggia del vuoto e si è mangiata ogni rapporto con la politica è un'idea messa in giro dai potenti della terra che vogliono continuare a gestire il potere sovrano senza che i dati se ne accorgiano per cui io sono sovrano esercito il potere sovrano certo come si fa oggi certo dunque in modo diverso come si procedeva nel 1600 certo però non esercito poi siamo sicuri che non esistano le guerre dei tassi mi sembra che sia il modo in cui l'economia si riappropria brutalmente per la politica siamo sicuri che non esistano dunque di nuovo delle leggi ed eccomi qui delle leggi che hanno una origine una legittimazione politico-territoriale che si impongono alle presunte leggi internazionali dell'economia e del mercato globale certo c'è un problema la libertà di circolazione dei capitali questo è il problema però anche qui siamo sicuri che questo problema sia un problema eterico e connaturato allora il modello economico generato a Bretton Coole nel 1944 sul quale si eretta si eretta l'economia occidentale durante i 30 gloriosi che è nato in crisi alla metà degli anni 70 essenzialmente per il debito prodotto dagli Stati Uniti con le guerre in Vietnam e al tempo stesso per l'aumento vertiginoso del costo delle materie di prima dovuto alla guerra del Kepo bene quel modello che è un modello non comunista mi risulta non prevedeva la libera circolazione dei capitali ci siamo dissuti dentro tutti voi giovani no ma insomma ci siamo dissuti dentro i vecchietti non potete firmare i capitali come volevo e tuttavia erano tutte liberate la neoprazia e quelle non erano i sovieti chi ha tolto chi ha deregolato quanto ma non è neanche l'inizio del neoliberalismo non è nemmeno la fine del mondo comunista sono gli anni 90 quelli durante i quali clinton da una parte e le sinistre al potere in Europa dall'altra si danno da fare per eliminare ogni regolo fra i quei limiti all'inizio e le circolazione dei capitali e adesso piangono perché alimentato da algoritmi e anche qui attenzione gli algoritmi non nascono nella natura c'è qualcuno che dice a qualcun altro tu che sei un bravo ingegnere elettronico fammi un algoritmo che ha questa finalità sono tutto sapere orientato non è sapere neutro è sapere contenuto in un algoritmo l'algoritmo è una procedura che serve a produrre un risultato e io che faccio che dinanzio la costruzione dell'algoritmo vorrei che il risultato fosse quello che voglio io non quello che vuole qualcun altro bene questi algoritmi che governano i computer fanno gli investimenti miliardi di volte al giorno per guadagnare un miliardesico di dollar ogni volta queste qui sono un'invenzione resa possibile dalla sinistra che tanto per ricordarcelo tutti insieme governare era il potere in 15 dei 17 paesi dell'allora europea nel 2020 non c'è tanto perché qualcuno si ricordi che gli scempi di cui oggi preghiamo il costo non sono stati fatti nella ferocissima destra economica ma la destra economica ha mandato avanti quelli che a sinistra credevano che del regolare il capitale fosse una cosa di sinistra per motivi che francamente li scegliono questo è un vero problema e per noi al quale per noi si aggiunge il problema dello spreco che è nasce dal fatto che lo stato sovrano ha rinunciato alla propria sovranità momentane così con una lettera ma non c'è niente che non possa essere corretto e soprattutto non c'è niente che ci debba far dire che l'universale particolare lo stato è stato giustamente e legittimamente soppiantato dagli universali particolari che si sono resi universali cioè dagli indivini e dal loro perseguimento denutile non c'è niente che ci costringa a ciò e non c'è niente che ci costringa a non vedere che quegli particolari universali sono quattro gatti che 26 persone detengono tanta ricchezza quanto la metà più povera del pianeta non può essere razione che l'1% della popolazione del pianeta detenga 90% della popolazione del pianeta non può essere razione quando si parla di universale che deve sconfiggere il particolare si deve ricordare del fatto che il particolare meglio universale particolare cioè lo Stato era una macchina limitata per essere governabile invece non c'è forza umana che possa governare un presunto universalismo fatto di tanti particolari se tu credi a quello devi credere anche all'equilibrio alla capacità di quella macchina di usare e porsi l'equilibrio da sola tranne che tu non creda che si debba nascere un potere regolativo mondiale perché allora non riesco più a parlare con te perché stai parlando di nulla finché i poteri politici sono particolari è meglio servirsi perché grazie ad essi si può senza alcuna grazia ma si può tentare di governare i processi senza di essi non si governa niente bisogna pregare il Signore che le cose vanno alla fede di lui cioè ci vuole una bella fede per credere che la sovranità sia giustamente perita ovvero che il diritto si sia giustamente separato dalla territorialità una fede più forte di quella che c'è in colui il quale dice voglio tornare a sottoporre alla nacionalità a questo punto democratica dello Stato il territorio e i processi che dentro quel territorio avvengono sapendo che non tutto potrò fare mai il Stato potrò fare tutto non tutto potrò fare ma almeno qualcosa potrò fare e almeno non mi verrò l'idea della società liquida ed è l'idea che la rottura del legame civile e sociale sia la libertà la rottura del legame civile e sociale è l'essere soli al mondo immersi nella corrente dell'universale in alto movimento nella bufera infernale l'essere soli al mondo non è libertà è du questa bella parola sulla quale sono laureato e che l'avremmo cancellato perché non ce n'era più bisogno di operarla beh la gara è la nuova ci fichiamo dentro sovranità sovranità è il contrario di dominio rapporto spazio diritto politica è il contrario del rapporto universale individuo il rapporto spazio diritto politica è un rapporto governabile il rapporto universale individuo è ingovernabile ti capita addosso e inoltre non è nemmeno l'universale che ti capita addosso è un pezzo universale a cui il tuo universale particolare al tuo stato consente di capitarti addosso per poi magari piangere quando avvenire sconfitto non è il povero singolo tapino in piedi ma è l'oggetto più prezioso che lo stato non sembra ma che so io l'ultima proprietà pubblica dove si introducono le armi dello stato che improvvisamente è conterata da un conglomerato di un altro stato è una battaglia durissima perché bisogna andare contro una serie di idee ricevute con potenza spaventosa e emanate con potenza spaventosa l'idea che esista un vettore temporale che passa dallo stato al globo dalla politica al commercio dai confini al mondialismo itinerante che questo sia un vettore positivo che questo sia comunque in atto in modo in amministrativo è già stato arrestato la reazione contro le contraddizioni generate da questa credenza è già in atto peccato che sia una reazione reazione ma è già in atto una reazione reazione che non toccherà la struttura profonda del modo di produzione ma toccherà la narrazione e poi toccherà qualche aspetto secondale allora ringraziamo chi ha pensato a questo tema perché è